Comunque lei in quell'occasione è caduta ma poi si è rialzata nel 2021 finalmente la medaglia a Tokyo è arrivata, una medaglia di bronzo non era l'oro, avrebbe meritato l'oro? Era difficile perché poi è arrivata in serie finale e tutti sono forti e tutti vogliono quella medaglia, ce la giocavamo. Lei avrebbe meritato l'oro? No, sia sincera, va a beve guarda, vale tutto, hanno detto di beve. Forse sì, l'avrei meritato, l'avrei meritato. Comunque della sua avversaria filippina, la sconfitta lei ha detto ho perso un incontro che avrei potuto vincere, ricordo il suo sorriso, come a dirmi adesso vedrai, lei è molto energica anche troppo, in molti momenti mi è sembrato di combattere contro un uomo, anche per le sue fattezze molto mascoline, picchiava come un uomo e io ricordo i suoi pugni, ho preso due tre colpi tra sotto al fegato e al mento che ricorderò per sempre. Infatti lei ha preso dei montanti a fegato proprio, ma non ha esagerato, non è stata scorretta? No, può portare pugni al fegato, i pugni al fegato sono concessi, anzi. Lei li predilige? No, non tanto, io i montanti sì, che il montante è il colpo con cui si colpisce il fegato, io lo preferisco al mento. Perché? Perché sono più lunga, quindi posso metterlo in mezzo ai guantoni, mi piace. Ma se ti arriva un colpo al fegato come si reagisce? Eh come si reagisce? Un respiro profondo e non devi farlo notare perché se l'avversaria lo nota e lo capisce ne approfitta e quindi te ne scarica altri. Ma quanta cattiveria ci vuole per stare su quel ring così? Tanta cattiveria, ci vuole tanta cattiveria ma anche tanta eleganza. Era elegante la filippina? No, per niente, per niente. Era rossissima, rossissima. Una cafona. Una cafona. Infatti. Senta, me lo dice un suo preggio. Determinata, molto determinata. Un suo difetto? Vero? Sono egoista. Questo è un difetto vero. Si piace fisicamente? Sì, mi piaccio. Si dia un voto? Sette. Lei comunque invece è una bellissima ragazza. Non ha paura di rovinarsi i connotati? No. Mi interessa? No, non mi interessa. Il naso è ancora dritto però, no? Dritto ma ho preso molti colpi che l'hanno deviato. Non ho più questo. Si muove di più. Però no, non ho paura. È il mio sport e faccio i conti con questa cosa ogni volta che salgo sul ring. È innamorata in questo momento? No. È single? Sono single, sì. Sì. La dichiarazione della sua omosessualità ha fatto scalpore, ha avuto una grandissima eco-mediatica e lei ha commentato Irma ha fatto coming out e sti cazzi, la cito, cioè è la frase che lei si sarebbe voluta sentir dire. Sì, esatto, perché se fa notizia vuol dire che ancora non è normale. Io lo sapevo, lo sapevo che avrebbe fatto notizia e infatti l'ho fatto dopo una medaglia olimpica. Ah, e perché? Perché una medaglia olimpica in qualche modo mette a riparo tutti i tuoi risultati precedenti, no? Quindi nessuno può toccare la Irma atleta dopo una medaglia olimpica. Lei aveva paura che una confessione del genere, se non fosse stata così tanto forte, no? L'avrebbe indebolita anche nella sua carriera? Sì, secondo me sì. Perché nel mondo dello sport è ancora difficile parlare di omosessualità, non se ne parla tantissimo. Gli atleti sono considerati come persone perfette, come se fosse un'imperfezione essere omosessuale. E quindi ho sempre avuto paura di... Di mettere a rischio la sua immagine? Sì, sì. Infatti lei ha detto che più sei un campione più hai paura di dire qualcosa che possa toccare il tuo status di campione. L'omosessualità è un tabù nella box femminile... nella box maschile, scusi. Non è mai stato un problema, è un problema per chi vede lo sport da fuori come spettatore. Però non ci sono pugili maschi che hanno fatto outing in Italia? No. Quindi è un tabù? No, non è un tabù. Semplicemente... Non ci sono, dice lei. Non ci sono per adesso. Oppure se ci sono, noi non lo sappiamo. Senta, a lei però non piace la parola lesbica. Perché? Non mi piace su di me. Non mi piace definirmi lesbica perché non credo di esserlo. Lesbica significa che ti piacciono le donne. A me piacciono le donne. Finora sono stata solo con donne perché ho sempre trovato una grande affinità con le donne. ma nel mio futuro può esserci un uomo. Provo attrazione anche per gli uomini. Se la ricorda la prima volta che hai provato un'attrazione verso una ragazza? La primissima volta, quando neanche lo capiva bene magari? Sì, io avevo 15 anni, 14 anni e mezzo ed ero appena arrivata al centro della nazionale e mi ero innamorata follemente di questa mia collega, di questa ragazzina. Per me era sbagliato però provare questa attrazione. Quindi ho cercato di tenerla a bada, di non farla uscire fuori e di non espormi né con lei né con gli altri. Poi ho capito che era reciproca la cosa e sono stata con questa ragazza per quattro anni. Quindi è stato molto bello perché ho fatto tutte le scoperte con lei. Le prime volte ne ho parlato con la mia famiglia, ne parlavo con lei. La pensavano in modo diverso le mie colleghe, devo dire la verità. Loro già sapevano che era una cosa normale e tranquilla. Io non avevo mai affrontato queste tematiche con mia madre o nella mia famiglia. Non sapevo dell'esistenza dell'omosessualità. Per me la donna stava con l'uomo e basta. Qual è stata la storia più importante della sua vita? Questa? Ne ho avuto due. Durate tutte e due tantissimo. Una quattro anni, l'altra quattro anni e mezzo. Con una donna molto più grande. Le mie storie le porto sempre nel cuore. Ho sempre bei ricordi. Cerco di restare in buoni rapporti con l'altra persona. Tranne se mi tradisce e mi è tradito. Parliamo di quest'ultima immagine. Lei è una seduttrice, corteggia? Non tanto, non tantissimo. Mi piace essere corteggiata. Grazie.